amici benvenuti da fassina pronti via il car village in via giovane battista grassi 98 a milano lo showroom in via rona 15 sempre quattro piani a disposizione dell'automobilista più vicino al centro milanese qui invece vi presento i 60.000 metri quadri di questa area con questo ampissimo salone dove trovate centinaia di occasioni con arrivi quotidiani per cui quello che vedete adesso probabilmente già venduto ma venite perché è stato sicuramente rimpiazzato partiamo da lei questa meraviglia gialla targata alfa romeo una 4c spider con 240 cavalli il 1750 turbo vettura che non ha percorso strada 77 mila euro attenzione perché questa è un'auto che guadagnerà valore non sarà un usato sarà un'avventura collezione adesso 77 mila versione spider non so per quanto la troverete datevi veramente da fare immediatamente passiamo invece un audi a1 sportback advanced mille benzina 116 cavalli con soli 29 mila chilometri percorsi 20.500 euro renault clio energy attenzione questa è una clio non come tutte le altre clio perché la rs con 200 cavalli 1.600 benzina tc e 32 mila chilometri l'attivo vettura introvabile per quelli che vogliono uno spirito sportivo una vettura meravigliosa dal punto di vista telaistico e motoristico 18 mila 900 euro questa non so se la riconoscete sì è una macchinina sì così una una rovina così da nulla guardate solo questa questa calandra meravigliosa è una bentley continental gtc 560 cavalli 6.000 benzina chiaramente bentley 69 mila chilometri per cui pochissimi 62 mila 900 euro salutiamo questa meravigliosa stelvio quadrifoglio che è stata venduta vi porto ancora su un'autovettura da sogno con i suoi 450 cavalli è una porsche 911 carrera 4 gts soli 63 mila chilometri la vettura neanche a dirlo è full optional chiaro il prezzo ragazzi non sarà per tutti ma meravigliosa 99 mila euro pensate quanto costa nuova e il risparmio soli 63 mila chilometri salutiamo anche questo fortunato possessore di questa porsche panamera che è stata venduta vi porto su un altro 911 se avete voglia della porsche avete un po meno soldi e quella là da 99 mila euro non potete permettervela bene qui anche qui con qualche sacrificio 46 mila 900 per questa che è una 3.800 355 cavalli un 997 4s coupé dell'anno 2006 con soli 87 mila chilometri 46 mila 900 euro eccola qui invece una quadrifoglio che aspetta voi perché qua avete 510 cavalli per cui avete 150 cavalli in più di quella porsche che vi ho appena presentato 31 mila chilometri all'attivo un meraviglioso colore argento metallizzato veramente straordinario elegante ma super sportivo vi dicevo 510 cavalli per un 2009 biturbo quadrifoglio v6 49 mila 900 euro questo è un altro capolavoro che diventerà vettura da collezione anche questa è poi straordinaria potenza classe il bicione alfa romeo torniamo invece su audi per una più diciamo borghese vettura questa è una q3 business s-tronic col 2000 turbodiesel a 150 cavalli 15 mila chilometri percorsi 32 mila 900 euro il prezzo la vettura è automatica mi giro per dare un'occhiata a questa zona dove vedo tante nissan khashqai e x-trail ve le faccio vedere andiamo vettura chilometri zero 25 9 andiamo veloci pascal passiamo a questa 27 9 che è una khashqai a 100 150 cavalli 1.7 turbodiesel 21 9 per questa è connecta con 110 cavalli 1.5 dci vi parlo di vetture chilometri zero questa soli 7.800 chilometri all'attivo sempre il 110 cavalli 1.5 dci 23.900 euro ancora una chilometri zero per la motorizzazione 1.7 dci 150 cavalli è una connecta 26.500 vi ho detto il prezzo chilometri zero finisco su questa chilometri zero la ampia rassegna delle khashqai per passare altro 19.900 euro sempre 110 cavalli turbodiesel 1.5 allestimento business guarda faccio un salto qui tanto che siamo pascal vedo altre vetture interessanti qui ovunque di giri trovi cose meravigliose questa a3 sportback sport s tronic 1.6 turbodiesel 116 cavalli soli 22.000 chilometri 23.600 euro guarda questo se avete bisogno di una vettura con tanto spazio ma tanto spazio è una ford galaxy titanium power shift 49.000 chilometri il motore il 2.000 tdci da 150 cavalli 22.800 euro allestimento incredibile navigatore sensori parcheggio clima automatico insomma tutto e di più 22.800 chiudo questa questa zona per passare altro con la peugeot 2008 black matt 1.6 hdi 120 cavalli soli 43 4.000 chilometri anche qui sensori parcheggio fendinebbia vernice molto particolare opaca 13.900 euro e guarda pascal fai bene inquadrare quella rossa perché è l'unica tipo che c'è non ci sono no 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 non ce ne sono di altri tipo non ce ne sono no no non è un viale di 100 metri tutto di fiat tipo tutti i modelli allestimenti le carrozze no non ce n'è più di tipo ragazzi no c'era solo quella rirossa queste sono finte le abbiamo fatte con photoshop queste 50 fiat tipo le abbiamo fatte con photoshop in realtà non ci sono non sto neanche a dirvi prezzi perché se cercate una fiat tipo secondo me qui correte il rischio di trovarla toni lavora per voi guardate che roba fino là in fondo non è più là è corso buono e sardes praticamente dove finiscono le tipo mi giro allora di qua per farvi vedere la stessa cosa sulle giulietta guarda ma dove trovate un'esposizione di giulietta così così saranno 20 vetture una diversa dall'altra tutte le motorizzazioni anche qua tutti i colori dalla classica argento turbo diesel questa qui è un jtdm 150 cavalli 16.600 euro ma guardate che macchina 26.000 chilometri con le rifiniture rosse su questo colore bianco è veramente una meraviglia 14.4 per questa turbo diesel 1.6 con 48.000 chilometri questa ne ha 21.000 16.200 euro e la giulietta è un prodotto meraviglioso da guidare consuma pochissimo i motori vanno super forte questa 20.500 chilometri zero chilometri zero questa diesel 14.000 chilometri 16.600 sempre con 1.600 turbodiesel 1.600 turbodiesel con 24.000 chilometri 14.900 mi fermo su questa rossa perché avete capito il concetto pochi chilometri e spendendo assolutamente il giusto e questa 20.000 chilometri 15.900 euro poi ci sono delle vetture con più chilometri tipo questa che ne ha 89.000 però garanzia 12 mesi chiaramente spendete 9.900 per cui la potete trovare scegliere del colore motorizzazione anno chilometri in base alle vostre esigenze e soprattutto anche alle vostre possibilità perché comunque mi porto a casa con meno di un deca una bella giulietta come questa ragazzi non voglio diventare noioso ma anche per giulia per giulia c'è un viale dedicato a giulia anche qui tutti i colori tutte le motorizzazioni giulia è una dei bestseller del mercato una vettura che ha ridato veramente voglia di avere questo scudo sul nel proprio garage nel proprio posto auto e quando scendi al mattino c'è quella calandra lì che ti aspetta è veramente uno spettacolo di emozione guardate qua ve ne dico solo alcune avete visto quante ce ne sono è ma guarda questa blu è talmente una cartolina che ve la ve la presento questa è il 2002 che è un motore pazzesco 27.000 turbodiesel chiaramente 150 cavalli 27.000 chilometri 20.900 euro guardate che capolavoro di accostamenti nera nera insomma è una roba meravigliosa 32.000 chilometri questo è il 180 cavalli una vera belva col cambio automatico auto rapporti interni in pelle rossa se non mi ingannano non mi inganna sì sì misto ma con la pelle rossa e belle veramente super sportivo 20.900 euro 19.8 questa guardate che bella questa qui che è un chilometri zero diesel automatica con il 180 cavalli chilometri zero ve l'ho già detto a tutti gli accessori compreso lo smartphone mirroring a 37.900 euro 35.200 per questa sempre automatica e poi ce ne sono tante altre questa è appena andata in consegna per cui non la trovate vedo però dell'estelvio compresa una rossa che mi fa veramente impazzire di libidine ed è tra l'altro una 4x4 automatica con il motore 2.000 turbo da 280 cavalli perché questo è un cavallino veramente incredibile 16.000 chilometri per cui vettura pressoché introvabile al prezzo di 37.900 euro fammi controllare se l'ho detto giusto sì 37.900 con il navegatore da 8.8 pollici cerchi in lega elettrocamera i sedili riscaldabili interne in pelle sensore di parcheggio veramente più bella di così non so come poterla trovare 37.900 questa è venduta molto bella anche bianca molto più diciamo borghese cittadina canna di fucile chiaramente il rosso e bianco secondo me spaccano di brutto questa è un 210 cavalli 4x4 allestimento executive q4 44.900 euro spero sia chiaro anche per stelvio e per giulia se la cercate qua dovete venire da fassina fiat 500 x city cross 35.000 chilometri 1.6 da 120 cavalli chiaramente turbo diesel 17.600 euro 13.6 per questa con soli 30.000 chilometri qua ragazzi scatta l'affare un allestimento opening edition 13.000 e 6 16.200 invece per questa con 1.3 multigeno 95 cavalli motore pazzesco 19.000 chilometri soli e 16.200 euro ragazzi allora siamo d'accordo se avete bisogno una vettura non potete non fare un salto da fassina nei due saloni quello in via una 15 a milano stazione modo modo modosso la corso sempione a due passi dall'arena e poi invece qui in via giovane battista grassi 98 al car village centinaia di autovetture che potete vedere toccare provare se vi serve l'officina l'assistenza e tutto qua le pratiche auto sono qua dietro voi arrivate scegliete la vettura magari una vettura a cui non pensate questa la forza di un salone così perché camminando girando come faccio io per portarle le vostre case trovate una vettura a cui magari non avevate pensato garantisce chiaramente toni fassina ciao ragazzi dal bob alla prossima ciao